La Lazio torna a perdere in campionato dopo 5 partite in cui erano arrivate 4 vittorie e un pareggio, ma perde male, giocando male a Bergamo contro l'Atalanta, ci poteva stare la sconfitta ma non il modo in cui è arrivata, con una sensazione di scollamento tra l'allenatore e la squadra, sembra quasi che i giocatori abbiano una crisi di rigetto nei confronti dello spartito sarriano, quindi è un momento veramente negativo, la società non interviene, non è intervenuta sul mercato la scorsa settimana, non interviene provando a fare un cambio tecnico, evidentemente c'è qualcosa in questo momento che lega Sarri e Lotito perché il feeling è assolutamente ai minimi storici tra i due, che è il contratto, il contratto ancora in essere per un anno e mezzo e quindi non ci sarà un divorzio se non a fine stagione.